la classifica adesso è questa abbiamo albino con tre punti ricciardi con due punti e mezzo ora si aggiornerà la classifica penso che si sia aggiornata no non ancora stanno ancora giocando ed è tutto da vedere perché qua abbiamo tanti a due punti e mezzo e tre punti abbiamo poca distanza quel sesto giorno andiamo a vedere guy ecco l'apertura qui le mosse principali per il nero sarebbero state 12 19 poi 22 per 15 cambio e poi 10 14 con questa scelta il nero lascia troppo spazio al centro al bianco quindi e da un leggero vantaggio in apertura ma la partita è pari i colori sono entrambi i giocatori fortissimi questi quindi avere una partita pari non è il massimo così almeno si capisce chi è il più forte anche se non è detto è qualche partita può vincere a uno qualche partita può vincere l'altro che si va su una posizione abbastanza semplice ok si va ad attaccare qui la posizione centrale con questo triangolino ok si va ad attaccare verso il centro ora magari si fa questa ok quest'altra il nero ha lasciato tutto il centro al bianco ma il centro è forte ok ma è difficile da controllare perché poi è facile da sbagliare ora per esempio potrebbe essere questa mossa giusta magari si rischia il tiro non ancora non si rischia però ci sono delle trappole potrebbe essere questa non si sa questa è una posizione dove tutti sbagliano però anche questa del nero non è che è facile ok ha deciso di andare avanti questa ok ora si va avanti c'è questa no ok il bianco imposta una struttura linea vediamo il nero come reagisce qua il motore suggeriva 10 14 forse per mantenere qualche pezzo al centro e provare il tiro con sacrificio 14 19 ma con 10 13 la posizione del bianco diventa sempre più vantaggiosa infatti qua il bianco anche senza la 10 13 ha la posizione vantaggiosa e il vantaggio con 10 13 cresce sempre di più il nero agisce attaccando verso il lato ecco come pensavo linea contro lato vediamo chi vincerà ok si fa questo cambio ma secondo me la cattura forse era meglio quest'altra perché qui ora si passa la mossa difficile da trovare per il nero era 2 5 qua con 6 11 da ancora molto vantaggio al bianco e soprattutto non bisogna catturare con la 3 perché qui il bianco c'ha 18 14 il nero deve per forza difendersi e mettiamo caso adesso 30 27 il nero qui potrebbe essere tentato a fare il tiro ma qua perde con un pezzo in più perde quindi dovrebbe fare 7 11 e da questa posizione senza andarla a vedere tutta il bianco ha la posizione completamente vinta sa vabbè che si dà il doppio cambio però il bianco secondo me qui ha una possibilità di vincere con questa poi c'ha tutto il tempo per pensare quindi a modo anche di calcolare ok forse se si succede questa cosa il nero finisce con una pedina qua questa questa se va qui come se non esistesse e comunque non potrebbe andare avanti ora quindi si dà il doppio cambio finisce con la 4 in 12 e questa non si può muovere vediamo come reagisce adesso il bianco anche se devo dire che il nero è molto in difficoltà ma secondo me si potrebbe fare questa questa doppio cambio oppure sacrificio questa cattura la cattura 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 poi si va verso la damatura insomma il bianco ce l'ha un po' di attacchi quasi quasi io proverei il sacrificio uno ta ta questa struttura qua no ok va bene il semplice il bianco il semplice con 22 19 la partita sarebbe ritornata in parità quindi ricordate ragazzi come dico sempre il semplice ed efficace come dicevo semplice ed efficace semplice ed efficace qua purtroppo il nero con 12 16 firma la sua condanna perché qua c'è 22 19 il cambio e questa pedina rimane lì l'unica che si può muovere è la 16 e guardate un po' dove va perde il pezzo il nero infatti qui non può andare potrebbe soltanto andare verso la damatura e provare a prendere il pezzo a riprendersi il pezzo quindi la mossa migliore qua era 11 15 poi mettiamo caso che c'era appunto la 18 14 il nero non voleva far passare la 18 per questo ha fatto 12 16 ma anche se passa ecco questo vediamo con 15 ecco questa variante qua qui si dà il cambio il bianco dà il cambio da questa parte facendo stare tutti i pezzi verso il lato ma qui c'è la pari comunque perché anche il nero anche se va a dama da questo punto riesce a recuperare la posizione mettesi in 22 e fa passare le altre pedine per andare alla damatura ok il nero si muove qui il bianco si blocca ah cosa sta facendo? l'idea del bianco con 18 14 è provare a bloccare la posizione del nero ma qui il bianco ha la partita completamente persa infatti vediamo che per esempio 29 25 non funziona perché dopo ci sarebbe 16 20 il bianco l'unica mossa che può fare qua è 22 19 guardate un po c'è il tiro e il nero prende un pezzo ok ora c'è questa ora c'è questa wow cosa sta succedendo no il bianco ha perso il bianco ha perso ha perso completamente no che errore peccato adesso c'è questa e c'è il tiro e basta no che errore l'idea era buona però solo che la posizione non consentiva però beh sono arrivati al sesto turno sono arrivati al sesto turno mai sono cotti sono stanchi con questo punteggio ora vedremo poi l'aggiornamento andiamo a vedere come è finita ecco ovviamente il nero si è arreso cioè il bianco si è arreso il giocatore che aveva il bianco non è vero non è vero non è vero